Ok, l'elezione di oggi parlerà di un delta tempo e di un delta massa uguale a una costante è uguale a mc2, allora che significa mc2 sappiamo uguale a e, e sarà uguale a quella costante c1, quindi sappiamo che se c'è una variazione di tempo ci sarà una variazione di massa. In questo postulato è letta che la massa e il tempo e l'energia siano tutti quanti parametri che in qualche modo ci interessano nell'evoluzione. Questo è un uomo e questo è un punto, diciamo, che può essere il coccige. In questo punto si dilavano delle configurazioni, ok? Questo è il punto centrale. Facendo degli esercizi di visualizzazione in cui spostiamo l'attenzione con il pensiero e con l'energia della massa, quindi muovendo massa energetica in questo punto possiamo attivare, diciamo, dei loghi energetici all'interno di questo punto e variando la nostra attività in un pentolo, quindi qui è il nostro soggetto e questo è il petolo, che può essere un amaga o può essere qualunque cosa, sia uno spostamento, diciamo, della nostra capacità di poter assorbire o meno un'energia. Questo è una cosa estremamente importante perché variando la dimensione dell'altezza del petolo, quindi saltezza da terra e infine il tetra tempo e il tetra massa varierà anche il tetra tempo, il tetra energetico. Quindi, nella lezione di oggi, la cosa più importante sarà la variazione, diciamo, del pendolo dell'amaga o di qualunque attività che viene fatta in oscillazione, sia nel tempo, nella massa e nell'energia. Questo, per concludere, ci porterà a ottenere un principio che viene sancito da tantissimi anni della penetrazione degli orbitali. Gli orbitali possono penetrarsi tra di loro e possono anche uscire, in questo caso, ok? Il nostro obiettivo sarà quello di visualizzare, diciamo, i punti energetici del corpo per far uscire e entrare questo tipo di energia dentro di noi.